Inter Inter e più Fccinta e più Dai Cristo si ha bloccato tutto Ragazzi concentrati Comunque il muro all'estate d'occhio non ho mai visto Una volta che cosa sono Calma Ma come va Come vanno le Ecco Ecco Bravo Mamma mia dita che paura E' meglio se 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 se vabbè ma com'è la pista quello si c'è la passi si è giocato da solo marco dio un frocio con i baffi questo frocio con i baffi freddy mercurinei non si può dire frocio ma un uomo sessuale con i baffi con i peli un negro frocio con i baffi 10 a saltare non si può dire bello Fortunato non ti piace? Fortunato no no dicevo al giocatore mio forte e te la devo a farlo a cui stanno la domanda fai otto fai solo oh maledizione che dia si è aspettato a tre quarti d'ora sempre moriti oh i grossi comunque non funzionano mai no no che hanno deciso giocano pure solo go porco ti manca scelta aumenta un po' la velocità agilità bello testa spicchi dai lo sapevamo guarda che culo che culo fatica dove vai dritto per dritto si chiude il primo tempo 1-0 alla fine della prima passione nemmo fatto un tiro in porta uno che dobbiamo fare qua? che sanno a cambiare? porco dio giocate guardate ecco il cazzo di il secondo tempo questa è la camera che hai detto? che avete detto? avete parlato con due? non ne ho capito uno di che telecamera risale? non mi ricordo ma te lo dico è la stessa tua no no è un po' più vicino alla mia dai l'ora e mezza per partire l'ho visto? un tiro per primo tiro in porta manco verso verso hai cambiato modo? no eh? bravo Dita mi hai presa una bello come è? niente perco dio dritto per dritto ce n'era 1 porco dio ho spinto alle 1 triangolo porco dio no vabbè sono un po' volente io non gioco più porco dio un'ora e mezza un'ora e mezza un due è passata oddio ma che palletta porco dio manco se gira quanto cazzo devo caricare porco dio tutto tutto devo caricare oh ma perchè tutti diere tutti diere ho messo offensivo pensa un po' tale babbato ma che cazzo è tale babbato si fallo ma come loro nooo mi cazzo giocano questi ma tutti larghi mi faccio questa e peggio con l'altra è una scarica d'orgoglio questa ragazzi recuperamola vincemo dai 80esimo si lo fanno adesso mamma mia spengono tutto e passano pezzo nooo risi di merda sì 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 ma sto a fare il gioco mazza mazza pareggio immeritato Grazie.